Entro il 16 febbraio Michele Di Benedetto avrebbe avuto accesso a tutta la documentazione contabile del Barletta Calcio. Con un comunicato ufficiale il club Biancorosso aveva annunciato i progressi nella trattativa con l'imprenditore barlettano, ma quest'ultimo, già main sponsor della società presieduta dal patron Mario Di Miccoli, ha scelto di ritirarsi dalla trattativa dopo la nota pubblicata nel pomeriggio. L'incontro tra i legali delle due parti, Michele Cianci per Di Benedetto e Francesco Piccolo per Di Miccoli, sembrava aver prodotto un passo in avanti. Entro venerdì della prossima settimana, il potenziale acquirente del Barletta avrebbe potuto visionare le carte richieste nelle scorse settimane a garantire l'accesso ai documenti. La PEC con cui Di Benedetto ha formulato la sua proposta di subentro in qualità di presidente dell'ASD, la mail certificata e inviata il 7 febbraio, chiedeva di poter ricevere un esito definitivo entro 24 ore, decisione che la proprietà Biancorossa ha definito temporalmente incompatibile con la complessità delle valutazioni da fare. Di conto è stato garantito l'accesso alla documentazione entro il 16 febbraio, dando poi a Di Benedetto 20 giorni di tempo per approfondire il tutto e sottoporre i termini della sua proposta. Entro il ventesimo giorno dall'accesso alle carte, dunque, l'imprenditore Barlettano avrebbe dovuto presentare la sua richiesta di subentro nell'ASD in qualità di presidente. L'attuale direttivo successivamente avrebbe avuto 10 giorni per valutare in maniera positiva o negativa la proposta di Di Benedetto, che nella conferenza stampa di martedì aveva annunciato un principio di collaborazione con Francesco Di Vittorio, già vicepresidente del Barletta e ulteriore potenziale acquirente. Di Benedetto, però, ha comunicato la sua rinuncia tramite un post sui social a causa della richiesta di altro tempo da parte della società Biancorossa, nonostante le intenzioni già manifestate fin dal mese di dicembre. Resta in piedi, dunque, soltanto l'interlocuzione con Di Vittorio, dal quale si attendono evoluzioni nelle prossime ore.